Aggiornamento Covid, la campagna vaccinale in Puglia procede con numeri importanti. In sostanza un pugliese su tre ha ricevuto almeno la prima dose. Sull'andamento dei contagi vediamo invece come è andata nelle ultime 24 ore con i dati diffusi dal bollettino epidemiologico della Task Force regionale. Calo dei contagi in Puglia. Secondo il bollettino epidemiologico regionale di oggi sono 877 i nuovi positivi. Nel dettaglio si tratta di 253 casi in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella BAT, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Registrati anche 27 decessi, 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 nella BAT, 8 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dati che sommati a quelli dei giorni scorsi potrebbero portare la Puglia dal lunedì prossimo in zona gialla. La decisione come sempre venerdì sera. Una situazione che migliora anche secondo l'assessore regionale alla salute Pierluigi Lopalco che aggiunge abbiamo un RT calcolato da noi inferiore a 1. Incidenza e tassi di occupazione in miglioramento non ci sono focolai in ospedali ed RSA. I dati dovrebbero essere migliori della scorsa settimana. La campagna vaccinale procede invece con numeri importanti. Un pugliese su tre ha ricevuto almeno la prima dose. Intanto dopo l'assenso da parte della regione oggi il Policlinico di Bari ha registrato il primo accesso di un familiare nella terapia intensiva Covid. Fornendole tutti i dispositivi di sicurezza il coordinatore infermieristico ha permesso alla moglie del paziente critico ricoverato l'accesso e il contatto visivo ed emotivo che è mancato nel ricovero. Il familiare che richiede l'accesso è informato sul rischio correlato nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio. Dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità se è vaccinato o guarito da Covid. Gli orari sono definiti dai direttori delle unità operative che potranno anche temporaneamente sospendere le visite per particolari contingenze sanitarie o organizzative.